Ciao a tutti ragazzi, benvenuti e ben ritrovati sul canale di ACMILIAN INSIDE quest'oggi andremo a fare una sorta di panoramica su quello che è il momento attuale del mercato rossonero a circa 11 giorni dalla fine della sessione invernale di calcio mercato prima di iniziare come al solito vi chiedo di lasciare un like, un commento, di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina così da rimanere sempre aggiornati sui contenuti e vi porteremo qui su YouTube. In più in descrizione troverete anche i link per i nostri profili social e il nostro sito web ufficiale www.acmilaninside.com Partiamo subito prima di andare a trattare del discorso del difensore centrale e andare un po' a definire quelle che sono le situazioni in uscita del Milan di Maldini e Massara Allora, dopo aver ceduto Andrea Conti in prestito secco per sei mesi alla Sampdoria poi Andrea Conti vedrà lui con il suo agente se poter rinnovare il contratto con la Sampdoria in quanto l'esterno italiano era a scadenza proprio a giugno 2022 con i rossoneri il Milan sta iniziando a parlare ed avviare i contatti anche con la Sampdoria per Samu Castieco Samu Castieco comunque in patria, ovvero in Liga, è molto apprezzato Espagnol, Valencia, Villareal, sono tante le squadre che sono effettivamente interessate all'esterno spagnolo però nessuna mai ha presentato un'offerta con carreta al Milan a quanto pare la Sampdoria con Marco Giampaolo come allenatore pare sia una delle principali pretendenti a Samu Castieco appunto addirittura Giampaolo pare aver chiesto al suo direttore tecnico come obiettivo per l'attacco doriano appunto l'esterno milanista Samu quest'anno ha trovato poco spazio, sono pochissime effettivamente le partite che ha giocato in maglia rossonera nel corso di questa prima parte di stagione a memoria ricordo quella col Verona che ci permise effettivamente un suo cross di vincere quella partita che sembrava essere stregata e poi la partita contro l'Udinese Samu come ben sappiamo è a margini del progetto di Stefano Pioli lui essenzialmente se ne è reso conto da solo nel corso di quest'estate però con grande professionalità ed umiltà essendo molto legato i colori rossoneri ha sempre lavorato con massima dedizione alla causa facendosi trovare sempre pronto quando Pioli ne avesse bisogno una situazione un poco più complessa ma più complessa e articolata è quella per quanto riguarda Pietro Pellegri l'attaccante classe 2001 ex Genova che in questo momento è in prestito dal Monaco pare essere prossimo a diventare ufficialmente un nuovo giocatore del Milan perché i rossoneri sono realmente intenzionati a riscattare il talento italiano dal Monaco per circa 3 milioni e mezzo di euro una cifra importante tenendo conto il fatto che da inizio anno il ragazzo ha giocato pochissimo soprattutto per i gravi infortuni che lo hanno contraddistinto e comunque hanno caratterizzato la sua breve carriera il Milan è propenso a riscattare Pietro Pellegri perché il Torino è fortemente interessato ad avere il ragazzo in prestito per 18 mesi le due società stanno parlando, stanno trattando perché il Milan vorrebbe un prestito secco mentre il Torino sarebbe interessato a concludere l'operazione su un prestito secco di 18 mesi con un possibile riscatto al termine di questo il Milan ovviamente seguendo la politica di Elliot non vorrebbe cedere un ragazzo così velocemente in quanto uno dei attaccanti in prospettiva migliore del nostro calcio ed è per questo che non vorrebbe disfarsene così velocemente ed è per questo che Maldini e Massara vorrebbero intavolare una trattativa come è successo con Pobbega per quanto riguarda quest'estate adesso passiamo alla questione entrate un Milan che in questo mercato di gennaio è risultato essere molto poco attivo escluso le voci riguardanti sempre il solito difensore centrale di cui Stefano Piole tanto necessita come ben sappiamo l'obiettivo numero uno per la difesa rossonera è Sven Bottman difensore classe 2000 di Lille che ha una valutazione che si aggira attorno ai 30-40 milioni secondo il club francese dopo una serie di dichiarazioni da parte del presidente appunto della squadra transalpina pare che Bottman non si debba muovere in questa sessione di mercato anche perché Lille concorre tuttora per importanti obiettivi per la sua stagione ovvero un importante piazzamento in Champions League in quanto sono agli ottavi di finale poi una cavalcata verso un posto in Europa che in questo momento il Lille vede molto lontano ovviamente il Milan non demorde, il Milan spera in un modo o nell'altro che il Lille possa cedere e ci proverà fino all'ultimo giorno di mercato nel momento in cui entrambi i dirigenti rossoneri cercheranno di carpire un momento di debolezza da parte della società francese che comunque ricordiamo vive un momento di crisi economica non indifferente addirittura ha dovuto vendere nel corso degli ultimi giorni uno dei suoi top player Iazici che l'anno scorso ricordiamo per la tripletta a San Siro proprio contro di noi al CSKA di Mosca per quanto riguarda le possibili alternative a Sven Bottman sono veramente poche abbiamo Bremer, abbiamo Diallo e abbiamo Belli tra questi il più fattibile ovviamente è Belli del Manchester United in quanto il club inglese ha aperto anche un possibile prestito secco per Livoriano ovviamente le situazioni sono tanto quanto sempre le stesse Diallo costerebbe troppo e il Milan se si vorrebbe qualora il Milan volesse acquistare il senegalese dovrebbe imbastire una trattativa seguendo quelli che sono i piani dirigenziali di Elliot per quanto riguarda Bremer dovrebbe essere un investimento troppo importante in quanto il Torino vorrebbe cash tutti e subito Belli invece è quello più fattibile però anche quello più complicato da un punto di vista dirigenziale in che senso il Milan nonostante le aperture del Manchester United anche un prestito oneroso, un prestito secco ha un importante sconto sul prezzo del cartellino del giocatore non è convintissimo del ragazzo soprattutto per i vari problemi che lo hanno colpito vari problemi fisici e quindi infortuni che l'hanno colpito nel corso della sua carriera la situazione quindi è questa è un mercato in entrata che rimane ancora bloccato per la questione difensore centrale per il quale il Milan è la ricerca verso la fine del mercato qualcosa arriverà sicuramente anche perché Pioli continuerà a giocare solo con due centrali sarà insomma quasi difficile siamo sicuri che la società lavorerà per mettere a disposizione di Pioli i migliori giocatori possibili augurandoci insomma che a fine stagione potremmo giochere per qualche trofeo o qualche nuovo innesto per il momento è tutto mi auguro che questo video possa esservi piaciuto ci vediamo in un prossimo video e sempre forse a Milan